Eccoci qua con mistero da stella della CPS, mister, allora è stata una favola fino alla finale, poi se troppo l'epilogo non ha rispettato tutto il cammino che avete fatto. Ma no, la finale ha rispettato tutto il cammino, se troppo l'epilogo d'inizio che non aveva la spalla, l'avamo per sapere, a fine primo tempo abbiamo avuto quelle tre occasioni che rispettavamo a fare meglio, cioè quando vai sotto per la zero, quella è una disattenzione nostra. Sì, quei tre o quattro angoli consecutivi dove devi mettere questo incontro. Se ne frena occasione per pareggiare, vai sotto fino ad un po' per il pareggio, non devi non farla in corso, devi mettere 100 minuti, eccoci qua che dire. In senso, sarebbe l'ultimo giudicare in ultimi 70 minuti della stagione. No, è chiaro. Io ho avaluto il percorso di presto dal BN, dal BN, dal BN, dal Cielo. Assolutamente. Bisogna ritornare al Cielo D'Amole si parte. Noi siamo partiti dalla fase provinciale. Chiaro, chiaro. In Fica non c'è uno spareggio, in fase regionale in Fica non c'è uno spareggio. In Fica non c'è uno migliore terza, però passando per l'ultima fase in Fica non c'è oggi, ce la sanno già male. C'è qualche rammarico, qualche rimpianto in questo domino? No. Rammarico. Non c'è nessuno rammarico, ma anche. Ringraziare questo gruppo è molto fantastico. Come società pensa che ci sono affidistati. Quando porti due annate e due anni alla finale, perciò vuol dire che si sta lavorando con la prima cosa. E c'è un progetto serio alle spalle. L'ultima cosa al futuro? Eh, nel 2004. Già, ce l'ho già da un mese perciò. Mi saluto loro. Da domani dovrebbero prendere solo per il 2004. No, no, vabbè. Siamo un grande giocistico. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.